salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft dal progetto su tre bene cosa facciamo oggi dobbiamo fare le cose finire in questa mod che è lunga lunga allora qui ho fatto shift click con la guanda che adesso non ricordo che altro messo con questa qui con la linking wand e poi clic sul piedistallo e mi è venuto finalmente questo ma non è finito adesso dobbiamo creare delle lens le possiamo creare anche da qua e l'ho già messe a fare vedete le sto facendo tranquillamente la stessa cosa basta mettere una plane qui una plane qui sopra e lui la creerà io adesso ho fatto l'automaticato l'ho automaticato automatizzato per diventa lens wand sopra e lui la crea c'è plain solo la prima base le faccio vedere faccio prima vedete che in base la crea sennò bisogna andare a farla qua con 4 è dispendioso tantissimo ok ok adesso andiamo a fare le lens queste qua che ci serviranno questo come si fa questo si deve mettere del log dentro lo starlight liquid vi faccio vedere tac e lui lo creerà creerà queste qui ibride queste qui ibride dopo si mettono qua nella crafting table e una volta nella crafting table si a 4 diventano così eccoci qua perfetto e adesso andiamo a fare facciamo le lens vediamo quante ne escono devo fare una alla volta bella palla dobbiamo fare cinque perfetto scusate e tocca far così ogni volta una bella palla lo so ci vuole pazienza ok vai siamo a tre ah ne ho fatti già un bel po 185 290 si variano in base a le varie cose adesso ne faccio un altro po che siamo a posto prendiamo quella più potente tanti saluti allora questa qua 107 è una merda queste 2 90 e 2 80 ok prendiamo queste due qua per adesso queste le mettiamo via ok questa qui via e questa qui via perché abbiamo queste qui da 2 90 e lo tanto la farei prima queste ok allora dobbiamo andare qua prendiamo un mattone a caso va bene anche la dirt ci alziamo di due di due deve mettere cinque allora io qui metterei due qua lo dico scusate qua uno qua cia boi vabbè è uguale insomma non ci andiamo perdere di speranza allora facciamo così una qua da due tre quattro e la quinta la mettiamo fa e cinque poi link tool shift click click su qui ok allora scusate devo fare un po di prove perché sta mort mi sta dando un sacco di problemi e non è mio il problema è proprio un problema che lo dà ho provato a giocare con un mio pack e funziona qui non funziona non so perché comunque sia l'ho messi li ho linkati tutti e ha fatto il rituale poi ho fatto questa lens qua che vi faccio vedere ancora questo ancora lo sono dato a fare si fa facile con i nugget un gold due lens una gemma di soldati una star dust e quattro pain glass pain una volta fatto questo l'ho messo qua su facendovi una scala con dei semplici mattoni ho fatto sono arrivato fino a qua e dopo l'ho appoggiato la lens al mattone in modo che rimanesse qua una volta fatto qua si è connesso in automatico e lui me ne ha fatte due rituali sì il rituale me ne ha fatte due quindi shift click con questa qua sul prima la prima lens e lui chiederà dove devo connettere la seconda lens io la seconda lens l'ho connessa qui vedete che c'è tutti i particolari l'ho connessa qua l'ho messa qua poi l'ho connessa con il pulsante destro mi dice connessa infatti funziona perché l'animazione c'è vedete ha preso vita dovrebbe essere una time a bottle come la classica time a bottle il problema è che non funziona l'animazione c'è tutto quanto c'è ma va esattamente alla stessa velocità e macchinari tutto quanto dovrebbe fare l'animazione nel senso che dovrebbe abbracciare questa animazione che vedete qua particellare abbracciare tutta un'aria grossa ma quest'aria grossa non la abbraccia e ho provato appunto in un altro pack funziona qua non funziona non so perché questa mod a me dopo questo aggiornamento è capitato già in altre la scorsa era anche feci l'aggiornamento che fecero disabilitaro a duck nulla succede che ogni tanto fanno un aggiornamento per migliorare qualcosa e poi va a deficitare come vi ricordate i poll della della cosa che video vedete questi non c'è invece ci deve essere per far funzionare questi poll qua purtroppo questo aggiornamento ha deficitato qualcosina ogni tanto probabilmente l'aggiusteranno perché io lo sto giocando da uscita da poco l'aggiornamento e quindi per me c'è qualche problemino uno è stato questo vabbè non era un problema questo qua vedete io qui che non c'è di niente questo qua intanto l'avete visto quando rompo questo pallo mi viene la text danneggiata vuol dire che proprio ci sono dei problemi e questa mod questo pack questo aggiornamento qui me li da comunque sia quando giocherete voi o giocate a un'altra versione funziona basta linkare queste cinque lenti al blocco con questa tool link mettere questa lens che vi ho fatto vedere come si fa senza problemi e una volta fatto questa prendete l'altra lens dove la volete mettere creerà un raggio in grado di potenziare la velocità di click dei tic dei macchinari associati quindi è una timer bottle in pratica sempre attiva molto carina molto bellina va bene andiamo avanti a questo punto non mi soffrivo più di tanto in questo pezzo perché purtroppo abbiamo già visto che di bug che non dipendono mai ce ne sono diversi tipo questo che non funziona che purtroppo provando a installare la mod nude cruda funziona qui non funziona quindi c'è qualche problemino che aggiusteranno sicuramente con le versioni più avanti ma adesso non ci non è un problema che va a deficitare tutto il pack quindi possiamo andare avanti tanto le quest le abbiamo fatte io proseguirei verso la blood magic o adesso mi informo su cosa comunque non vi preoccupate vi ho fatto vedere passo passo come fare e se non avete problemi con il pack a voi funzionerà tranquillamente vedete abbiamo fatto tutto io è rimasto solo la blood magic quindi mi informo e arrivo subito ma se non ricordo male dovevamo fare anche una cosa noi adesso io ci provo sperando che funzioni o mai ci spero poco comunque sia dovevamo fare una cosa allora mettiamo adesso metto via un po' di roba qua 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 e qua tutta roba della sua mod così almeno ce la togliamo dalle balle ecco qua mettiamo via un po' di roba qua e poi questa la mettiamo qua poi queste pain le mettiamo via ah anche questo ok dobbiamo fare noi abbiamo messo nell'altra qui queste qua se non ricordo malo eh adesso ricordo forse malo però insomma ecco dobbiamo fare questa proviamo a farla dai vediamo se viene stavolta allora ok stavolta dovrebbe funzionare e rimangono fuori un po' di cose che dovrebbe dirmi lui qui quindi proviamo e vediamo bene vai adesso mi dovrebbe dire lui cosa mettere ok perfetto questo qua perfetto questo qua qui ottimo adesso ci mancherà l'ultimo sapling che va qua perfetto dovrebbe funzionare adesso vediamo un po' io ho fatto come ha detto lui adesso vediamo se funziona perfetto ha funzionato adesso queste qua se non ricordo male mi permetterà di resettarmi tutti i perk perché mi fa cambiare ramo che io ho fatto a Evitas se non sbaglio a Evitas perché Evitas aveva delle cose belle aveva delle cose Massimo Life e tante cose interessanti ma vediamo come si funziona noi clicchiamo ci mettiamo in punto tranquillo ok clicchiamo il pulsante destro e perfetto the light sublime shift adesso vediamo un po' se è vero perk ne abbiamo 30 vedete ok c'è resettato i perk e ce li ha dati in questo ramo che è l'Avitas vedi a due Massimo Vita incrementa Massimo Life incrementa Massimo Life more Maximo Life more Maximo Life così abbiamo abbiamo Massimo Life se lo dai grazie incrementa Maximo Life perfettico vedete abbiamo un sacco di perk che ci danno Vita poi incrementa Maximo Life incrementa effettivo di perk non mi interessa incrementa Maximo Life incrementa Maximo Life incrementa Maximo Life incrementa Maximo Life bello vero ok poi incrementa effettivo di perk non mi interessa che vedete effettivo di perk vediamo dov'è che c'è altro life doge non mi interessa vediamo un po' che mette effettivo di perk effettivo di perk perc 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 incrementa Ranch vediamo un po' abbiamo 20 eh sto cercando di trovare una strada a me congegnale mining speed non ci interessa mining speed non ci interessa mining speed non ci interessa vediamo un po' che metta Reg effetto di perk 15 che metta perk avete esperienza garantita questa è roba che non ce ne frega niente vediamo se c'è qualcosa effettivo di perk che non riesco a vedere altro che possa essere interessante amore per riserva bit può essere interessante questo incrementa la schivata ma non so cosa voglio dire effettivo cioè cosa voglio dire in Minecraft la schivata non mele damage beh questo può essere molto interessante il mele damage ok da che parte andiamo io direi di andare di qua allora vai andiamo qua vediamo cosa c'è qui 15 che mette facile perk mele damage mele damage mele damage more mele damage e attack have a chance to disarm your target beh può essere interessante e poi vediamo se c'è qualche altra apicax carbused insider of anaxi insomma potrebbe essere interessante come no un adde mini speed sto guardando eh perché per me sono cose nuove eh se c'è qualcosa di interessante abbiamo un sacco di vita eh e poi non abbiamo finito neanche le quest quindi insomma c'è una versione di change meaning incrementa la possibilità di changed di cambio cambio cosa di possibilità di meaning neanche 14 adesso guardo un attimo vi dico dai allora poi un'altra cosa che c'è da sbloccare è l'empty shocked è un shock vediamo se ce la facciamo eh arrivarci non so neanche se ce la faccio vediamo un po' ok empty you have gem in inventario ok l'abbiamo sbloccata adesso per creare lo slot gem dobbiamo fare eh prendiamo dei semplici eh marmi eh eh del semplicio marmo eh così ok perfetto ci mettiamo un eh bidono eh di roba che lo trovo il bidono dove ho messo qua il bidono non ce l'ho lo prendo eccoci qua tac lo mettiamo un attimo qua tac poi prendiamo qui uno di questi disattiviamo questo prendiamo della glowstone ok perfettico ce lo gettiamo dentro tac tac e tac facciamo notte che io sempre giorno eh cioè quando devo spiegare è sempre notte e non va bene quando devo spiegare di notte è sempre giorno insomma ok si sta trasformando a un certo punto si trasforma in una in una gemma che crescerà una volta cresciuta noi possiamo avere accesso a poter mettere appunto questo siocad questo siocad che ci dà la possibilità di avere un buon soggettivo dice tu devi avere la gemma nel termine una volta che hai la gemma nel termine in Italia si attività questo gem questo shockad che lo shockad è molto facile ehm pass trull ehm dovrebbe essere uno di questi shockad ehm eccolo qua ehm dovrebbe diventare uno di questi non mi ricordo quale comunque sia ehm vi faccio vedere la pelle pronta ci vediamo fra poco ok dovrebbe essere pronta vediamo un po' cosa esce è che ho un po' l'incognita vediamo un po' incrementami il damage del 6% beh non è male quindi noi andiamo sul nostro libro andiamo sui perk andiamo a selezionare quello lì della gemma ehm ehm right click ehm right click to choose gemma ok empty gem right click ok vai perfetto abbiamo messo la gemma abbiamo un 6% in più di danno e che metta la resistenza beh non è male cosa dite no? abbiamo una barra cuori non male vi faccio vedere tutto il pack che ho messo così nel caso vogliate eh replicare volete capire poco cosa ho fatto questo è la mia scala questi gialli sono quelli quelli selezionati come vedete sono questi qua ho scelto questa strada qua mi sembrava la migliore ma può darsi essere anche i migliori i meglio di queste però questa mi è sembrata abbastanza adatta al mio gioco e quindi abbiamo tanta vita e le possiamo aumentare ancora perché hm qua la nostra quest ci daranno la possibilità eh qua di aumentare ulteriormente dieci cuori qua e dieci cuori qua quindi altri venti cuori beh non è malo non è malo adesso dobbiamo ammazzare sì del drago un po' di volte ma non è così grave da riuscire a non farcela quindi insomma io penso proprio che ce la faremo alla grande non vedo l'ora di iniziare già posso aumentare i due cuori ma aspetto di venire dieci così sono a posto non mi sembra una cattiva idea quella lì volevo vedere ecco voi perché volevo andare a fare anche un po' di problematic perché giusto per le quest per vedere un po' come si faceva no eh adesso questa mod penso di averla finita ma probabilmente la riprenderemo per qualche motivo o magari la mettono a posta con un aggiornamento e dopo eh insomma vediamo speriamo più che altro eh dunque dove l'avevo messo la pneumaticraft eh qua volevo dire che eh se mi dava la possibilità di selezionare adesso eh no posso vederlo ovviamente perché non c'ho liquido eh però quante altri tipi di plastica potevo fare è stato bello se me l'avessi fatto vedere eh vediamo un po' la nera si fa sempre con l'agri con la liquid plant beh queste qui le posso fare tranquillamente seleziono e tanti saluti perché alla fine si tratta di farne una per ognuna ed è c'è sempre questo quindi io adesso lo riattivo sto macchinario che non mi ricordo più come cazzo si fa cosa devo metterci il petrolio ecco adesso mi ricordo eh vado a prendere un po' di petrolio lo riattivo e chi si è visto si è visto i porti dietro un drum adesso non so dove avrò buttato la roba ho cliccato forse ce l'ho qua l'oil vediamo un po' oil si ce ne ho 56 quindi insomma non è un problema via questo ehm mettiamo allora questa qua però adesso non ci serve più quindi la metterei qua e poi facciamo così così a me lo vedete dai così ho anche piacere ok diciamo così quando questa si limpie abbastanza in fretta qua avevo voglia ancora ah beh il serbatoio eh non è poco malo insomma vediamo un po' le vado a prendere dall'alto d'altro so dove trovarlo insomma una volta che so dov'è è una volata eh bel serbatoio eh non è niente malo ok riempito perfetto portiamolo dentro così siamo a posto e adesso se non ricordo male ci andava il colo da tutte le parti eh vediamo un po' coal eh ce lo mettiamo un pochino dentro così siamo a posto vai così così a meno faccio tutte le plastiche che ci chiede sono tutte quelle no perché se le faccio off camera dite come cazzo hai fatto avete ragione eh perché è meglio che vi faccia vedere le cose eh dopo magari vi siete scordati come si fa facciamo un piccolo recap e siamo a posto vedete quanto carbono ci andava sì potevo mettere di meno nel senso metà per ognuno però siccome devo fare molte plastiche eh allora ha detto dai ci vado giù pesante e tanti saluti dove cacchio è a posto vedete che fa così si riattivano tutto è un attico infatti insomma il carbone non ci manca lo possiamo fare in cinque minuti eh qui li attivo tutti oddio si è preso lo sprinto tutti i macchinari adesso non abbiamo più la velocità perché abbiamo risettato eh abbiamo la velocità standard quindi sì adesso andiamo piano però abbiamo un sacco di vita in più ma tanta tanta e quindi insomma sì ok dovrebbe a un certo punto farla eh speriamo se non ricordo da dove si veda da qua si dovrebbe iniziare a fare adesso appena va in temperatura ovviamente deve andare in temperatura però vanno anche qua i i i vari eh carburanti non ricordo se ci sono altri posti dove vanno non mi sembra e dopo qua mi farà selezionare una volta che è in temperatura queste le possiamo prendere e le mettiamo nel sistema e quindi io mi metterò a fare questa roba qua comunque una volta attivata qui ci farà selezionare perché adesso vedi la tank è vuota e quindi non ce la fa fare ma ci farà selezionare che tipo di eh plastica poter usare noi useremo eh selezioneremo la plastica che ci serve io farò piano piano tutte le queste che riuscirò a fare di queste qui a meno queste e poi le posso più usare vediamo se andare avanti che vuole fare la pressure chamber vedere un po' come funziona eh un po' di coda ci sono cerco di informarmi poi vi faccio sapere così almeno piano piano affrontiamo tutte le mod in modo da poter ampliare un pochino la visione di questo modpack e dopo affrontarlo un po' come si vuole quindi ragazzi come al solito vi invito lasciate un bel commento se vi piace la serie a farmi sapere cosa ne pensate e una saluta saluta ciao ciao